Brian Cristante, la soddisfazione di fare gol, peccato però questo pareggio, anche se non è che si può vincerle tutte. Certo, sicuramente, in Serie A soprattutto non è che si può vincere tutte le partite, però abbiamo fatto un'ottima partita, l'abbiamo messa là, abbiamo creato tante occasioni da gol, poi per sfortuna non è arrivato il secondo gol, però abbiamo fatto un'ottima partita. Magari in altre situazioni queste partite si perdono? Certo, certo, non è mai facile, insomma, quando vai sotto poi la squadra avversaria gioca sempre in maniera diversa, quindi diventa sempre più difficile, perché siamo stati bravi a riportarla almeno sul pareggio, poi abbiamo provato fino all'ultimo, però non ce l'abbiamo fatto. Ecco, questo sassuolo che si è chiuso molto, ha giocato molto corto, insomma, ha cercato di mettervi in difficoltà? Certo, visto insomma che stavamo bene, che continuiamo a toccarli, a pressarli alti, quindi hanno deciso di abbassarsi un po', però ce lo dobbiamo aspettare, insomma, l'Atalanta ormai si è fatto un certo nome in questo campionato, sa che siamo sempre pericolosi davanti, quindi le squadre dobbiamo aspettarci che da qui alla fine lo facciano sempre di più. Brian Cristante non segna mai gol banali? No, no, l'importante, insomma, ero ancora l'importante, sono contento, però dobbiamo continuare così tutti su questa strada e arrivare in Europa. Mancano le ultime sette finali, che vi vedranno, per esempio, domenica, anzi sabato prossimo, di scena a Roma contro la Roma e mancherà il Papo Gomez squalificato. Certo, certo, però noi andiamo là per fare il risultato, insomma, sappiamo che possiamo giocarcela con chiunque e quindi andiamo là e mettiamo tutto noi stessi. Poi l'importante è entrare con la testa giusta, poi il risultato lo vedremo alla fine partita.